salve amici e amiche ai dittatori non piace essere ridicolizzati non si rendono conto di essere ridicoli non colgono il contesto non riescono a distaccarsi dal loro ego potrebbe essere comodo mettere in un recinto i dittatori i violenti i prepotenti in una bella gabbia che contenga il loro autoritarismo la supponenza l'avidità il maligno narcisismo sarebbe bello vederli chiusi in una cella e sbraitare minacciandoci vedendoci fuori liberi intelligenti disinteressati come in uno zoo prendendo fotografie e ridendo di loro ridere o meglio deridere i dittatori e i prepotenti è un atto politico di contro cultura a quella cultura dell'odio e dell'oppressione che loro generano la più limpida forma di ribellione e di spirito nei primi del novecento gli anarchici ridevano mentre venivano arrestati e attribuita a bakunin la frase la fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppelirà nel 68 qualcuno iniziò a scrivere sui muri e a gridare la fantasia al potere per chi se lo ricorda e poi dieci anni dopo un altro slogan famoso emerse nelle contestazioni giovanili una risata vi seppelirà ma chi è ridicolo non si sente ridicolo anzi è ossessionato dal senso del ridicolo i dittatori odiano i burloni così come facevano i sovrani di corte li mettevano all'agonia se dicevano qualcosa di sbagliato il ridicolo è pericoloso perché quando ridi in faccia un potente il potente te la fa pagare eppure ci sono giorni in cui deridere un dittatore non è possibile e fisicamente impossibile quando le uniche parole che vengono in mente ce le suggerisce salvatore quasimodo nella sua poesia più famosa che parla di morti abbandonati nelle piazze e lei aveva solo 14 anni era seduta su una panchina nel parco quando negli ultimi giorni d'estate in ucraina i rami degli alberi di mele iniziano ad essere pesanti i grilli cantano presto e la malinconia di un nuovo anno scolastico si avvicina la sua vita si è fermata in quel momento chissà che non stesse pensando a suo padre che da una settimana è disperso in azione e sua madre è sola ora mentre pochi metri più in là si tiene il volto fra le mani in un e gli spasmi alle gambe queste immagini faranno il giro del mondo queste immagini cambieranno il mondo ma a un certo punto chi scrive chi fa giornalismo o divulgazione non riesce più a farlo quando si è raggiunto il limite quando tutto questo è davvero troppo invidio chi riesce ad avere un approccio distaccato io no per questo motivo mi rifiuto di parlare della striscia di gaza per esempio semplicemente non riesco a farlo a causa dei fatti del 7 8 ottobre 2023 e così oggi ho raggiunto il mio limite e spero che queste immagini arrivino a quei piloti responsabili di questo attacco alle loro famiglie così ai loro comandanti e anche a quell'uomo senza dio e umanità che siede sul trono del potere in russia e spero che qualcuno gli presenti il conto molto presto così vorrei che questa foto possa arrivare a certi personaggi qui in italia quelli che pensano che la russia sia un grande paese con cui fare la pace amicizia e che l'ucraina sia nel torto ditemi cosa si prova ad essere una madre o un padre di una ragazza di 14 anni mentre il vostro paese viene bombardato dalla russia e gli omuncoli in europa litigano fra di loro sulle restrizioni alle armi e le forniture vorrei che mi spiegasse come si può pensare che la russia sia una nazione potente militarmente quando non è capace di operare in modo strategico e bombarda case di civili supermercati ospedali che razza di paese state difendendo se fosse stata l'italia a subire questa invasione e i bombardamenti come avreste reagito come avrebbe dovuto vendicarsi di questa ragazza di 14 anni l'ucraina oggi secondo voi un paese così inferiore militarmente alla russia che continua a chiedere alla nato l'autorizzazione a colpire le sue basi aeree per esempio proprio per evitare queste stragi da studioso della materia militare la reazione ucraina ogni volta mi riempie di ammirazione questa mattina mosca si è svegliata con 100 droni ucraini che colpivano la regione le centrali elettriche i depositi ci sono incendi ovunque in città a nord a sud in tutta la regione nei tweet e altri social i cittadini moscoviti sono infuriati si chiedono come mai perché succede e cosa sta facendo la difesa aerea cosa fanno i militari ed è curioso perché in teoria proprio mosca è la zona più difesa di tutta la russia con un anello insuperabile di scudi missilistici eppure mosca è in fiamme oggi perché gli ucraini stanno dimostrando di essere mille volte più capaci dei russi seppure in un numero inferiore di 10 a 1 e perché la russia non potrà mai vincere questa guerra vi rispondo con questo post di ieri di marco setaccioli a kiev sulle rive del nipr c'è uno dei più importanti luoghi della memoria di tutta l'ucraina il museo dedicato all'holodomor il nome con il quale è passato alla storia lo sterminio per fame di 5 milioni di ucraini voluto da stalin fra il 1932 e il 1933 con lo scopo di fiaccare la resistenza e punire i tanti contadini che si ponevano alla collettivizzazione delle terre all'ingresso del museo c'è la statua di una bimba magrissima che stringe in mano cinque spighe il massimo che era consentito raccogliere a seguito dell'introduzione di una legge che condannava i trasgressori inclusi i bambini e scontare pene che andavano dall'arresto alla morte a questa tragedia immane gli ucraini hanno dedicato un luogo solenne non solo perché le vittime innocenti del più sanguinario dei regimi totalitari fossero ricordate dalle generazioni future ma anche perché fosse chiaro che il popolo ucraino ha sempre preferito la morte alla schiavitù questa è la ragione per la quale l'ucraina non cadrà questa è la ragione per la quale putin la guerra l'ha persa nel momento esatto in cui l'ha iniziata grazie caro marco per queste parole oggi purtroppo mi dispiace non riesco ad andare oltre con questo articolo ma spero di portarvi notizie migliori nei prossimi giorni come sempre un abbraccio alla prossima